Come fare i tuoi primi 3000 euro online? Allora hai bisogno di costruire una macchina genera soldi online fatta di un canale youtube che può essere anche un cash cow channel che vanno tanto di moda Adesso c'è quei canali youtube che sono fatti senza il bisogno di metterci la faccia, video che sono fatti con immagini che scorrono, una voce narrante, un testo Quando ci sono dei tool di intelligenza artificiale che ti fanno fare questi video in pochissimo tempo, prendi un testo, il testo del tuo video che puoi fare con CiaGPT Io non lo so ragazzi, quando ho iniziato io non c'erano tutte queste opportunità, quindi tu che cosa devi fare? Devi creare un brand, pubblichi video, però devi vendere qualcosa Il maledetto segreto di Pulcinella per guadagnare, devi vendere qualcosa a qualcuno, libera la testa da tutte le cose che ti hanno messo in testa Dei metodi di guadagno, il dropshipping, faccio le affiliazioni, devo comprare dei corsi da migliaia di euro Fermati! Trading fermati! Se sei completamente a zero questo video potrebbe salvarti la vita Ti serve semplicemente un canale youtube, un blog o anche una pagina su instagram Ti serve sfruttare i social che sono una grande opportunità perché portano traffico Questo traffico però poi lo devi trasformare in soldi, come? Vendendo dei prodotti digitali Non ti serve acquistare il grande stock, affittare un magazzino, un capannone, devi fare anche la startup L'idea innovativa del secolo o devi creare una cosa nuova o semplicemente devi comprare uno stock di prodotti Fermati! Puoi fare tutto a costo zero se tu hai un prodotto digitale che puoi creare tu E' qui il bello di questo metodo, devi partire da te stesso, cosa ti piace, di cosa sei appassionato, cos'è quella cosa in cui sei bravo Che però a te viene naturale e agli altri no? Una volta che hai capito tutto questo Devi creare un canale youtube, io utilizzo youtube perché è il social migliore perché puoi anche guadagnare con la monetizzazione Ok? Ci sono anche dei guadagni correlati Però uso il canale youtube, uso il blog, nel blog posso creare le mie pagine di vendita per i miei prodotti digitali Fai conto che crei un prodottino digitale, magari un video corso, un corso in pdf a 47 euro Ne vendi due al giorno organicamente Quando tutta la tua macchina è andata al regime, guarda che fare due vendite in organico low ticket si può fare Cioè sotto i 50 euro la gente acquista ancora a bottone, non lo vendi a 47 euro, sono quasi 3000 euro al mese Solo dalla vendita di quei due prodottini E' ovvio che devi partire, devi costruire i contenuti, il blog, devi fare articoli Devono essere SEO friendly per essere trovati dai motori di ricerca Devi sapere i video, come farli, come indicizzare velocemente il tuo canale youtube per far crescere le visualizzazioni Perché più visualizzazioni fai, più traffico, più conversioni puoi fare Ma puoi partire da zero Guardati dentro e questo è il mio consiglio e poi mettiti online Ora, se vuoi approfondire ho creato un corso gratuito di un'ora, completamente gratis Dove ti spiego esattamente questo modello che io utilizzo dalla fine del 2016 Io vengo dalla musica, se hai già visto qualche mio video, mi segui sul mio canale business Sai che c'è un canale Michele Maralino Musica che ho aperto alla fine del 2016 Dopo che ho capito l'importanza dell'online, del poter vendere altri prodotti Perché io sono cresciuto come un cantatore, poi ho aperto la mia casa discografica e il mio ufficio stampa Ma poi mi sono messo online facendo video Ho iniziato a vendere ai musicisti tutto ciò che avevo imparato L'ho pacchettizzato sotto forma di consulenze, sotto forma di videocorsi, di libri, di guide, di pdf Digitali che ho creato a costo zero Ti serve un computer E puoi veramente cambiare la tua vita online Ma parti da una tua competenza, soprattutto se sei un libro professionista Ancora non ti sei messo online e stai rincorrendo i clienti che non ti pagano Tu non hai capito bene le potenzialità dell'online Ed è molto grave ancora nel 2024 Ma anche se non hai, diciamo, non sai ancora che cosa fare O vuoi parlare di un argomento di cui non sei competente C'è l'intelligenza artificiale che ti aiuta Spiego tutto questo in corsogratis.michelemaralino.com Vattelo a guardare, è gratuito In un'ora ti spiego l'esatto modello che mi fa guadagnare Con il canale YouTube Michele Maralino Musica Video che vendono prodotti digitali E anche il mio blog ovviamente Michele Maralino.com È tutto online Io ancora guadagno E questo è pazzesco Vatti ad abbelerare la mia fonte Perché sono uno, forse l'unico Che ha un business online o un'altra nicchia Cioè che il mio business non è solo la vendita Perché poi ovviamente vendo Tu dici, ma poi mi vuoi vendere il corso Sì fratello, siamo qui per guadagnare Se sono bravo in qualcosa e la insegno Ho tutto il diritto di lucrarci Quindi vai su corsogratis.michelemaralino.com Guardati il corso di un'ora Che ti spiega il modello Ti faccio degli esempi Ti spiego che cosa devi fare con il canale YouTube Ti spiego che cosa devi fare col blog Come fare i prodotti digitali Come partire da zero Poi lì ovviamente c'è un'offerta Se vuoi posso seguirti Ovviamente se parti da zero E prendi l'offerta Che poi è veramente regalata Tu hai un'ora di consulenza con me Dove insieme ti posso aiutare Capire cos'è che possiamo monetizzare In base alla tua esperienza Quello che ti piace La persona che sei Dopodiché ti diamo anche un prodotto digitale Pronto da vendere Quindi sei più veloce Paghi per essere seguito da me Ad andare più veloce Perché noi ti facciamo il primo prodotto digitale E poi hai tutti i corsi che ti servono Per andare più veloce Per imparare veramente Come creare il blog Come creare il canale YouTube Come tutti i segreti della SEO Sia per il blog che per il canale YouTube Ci sono i corsi anche per Amazon Perché è un prodotto digitale Che può essere un bundle Ti spoilerò qualcosa Un prodotto digitale può essere un bundle Cioè tre magari PDF Tre libri digitali Che gli vendi insieme Ad un'offerta Allo ticket anche 27 euro E quando è il tuo primo prodotto digitale Ma quei tre libri Li puoi pubblicare anche su Amazon Come libri Sotto il nome del brand Del canale YouTube Che hai aperto Del blog Se non vuoi usare il tuo nome E guadagni anche da Amazon Perché Amazon Se fai le cose fatte bene Come ti spiegano i miei corsi Ti mette Ti crea vendite organiche Ogni mese Pazzesco Quindi Hai tutti i corsi Per imparare tutto questo Hai la consulenza con me E hai il primo prodotto digitale Però Guardati quel corso di un'ora Perché a parte l'offerta Alla fine All'inizio Io ti spiego veramente Se sei sveglio Puoi anche partire Semplicemente guardando quel corso Anche se ti consiglio Di farti aiutare Se parti da zero Comunque vai su Corsogradis.michelemaradino.com Guardatelo Datti una chance Un'ora di tempo Ti cambierà la vita Perché l'online È una grandissima opportunità Ma Basta Stare dietro alle cavolate A comprare A farsi truffare Devi costruire Un brand Ok? Metterti online E vendere i tuoi prodotti Poi con i prodotti digitali Hai un vantaggio Pazzesco Perché Praticamente a costo zero Puoi partire da zero Domani mattina Una volta che hai guardato Quel corso E ti ho aperto Quel cervellino Che hai Dici Cavolo Allora a me piace La pesca Apro un canale youtube Dove faccio vedere Ora è un esempio stupido Lo andremo a vedere Se prenderai l'offerta Ma Anche Puoi capirlo da solo Quello che ti piace Magari la pesca Allora apri il cash cow channel Di pesca Vendi libri sulla pesca Oppure vendi Poi le opportunità sono infinite Puoi anche vendere Libri sulla pesca A quel punto Prodotti digitali Oppure anche Affiliazioni Su canne da pesca Ci sono mille cose Che puoi fare Vatti a vedere Per iniziare Il mio corso gratuito Che ti farà esplodere il cervello Corso gratis Punto Michele Maraglino Punto com C'è anche il link Qui sotto Per lucrare Seriamente Sfruttando i social Sfruttando i prodotti digitali Vendendo qualcosa a qualcuno Che è la base Del business E' un vero business online Che funziona Vende qualcosa a qualcuno Quindi vai su Corso gratis Punto Michele Maraglino Punto com Per approfondire tutto questo Il link è qui sotto Ci vediamo dall'altra parte